Abbiamo degli obiettivi importanti e ancora da raggiungere. Abbiamo l'obiettivo dell'eradicazione del morbillo e abbiamo dei casi in Italia ancora di morbillo. Abbiamo l'obiettivo di eliminare la polio e la poliomelite è ancora una minaccia globale. Abbiamo a portata di mano l'obiettivo di eliminare il cancro del collo dell'utero, ma servono coperture al 90% e in Italia siamo ancora al 70%.